Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa piccola video recensione di un tablet l'Asus Memo Pad K01E precisamente ME103K perché ci sono diverse varianti di questo tablet perché faccio la recensione di questo tablet? beh, semplicemente perché mi è stata chiesta da parte di alcuni amici che volevano sapere come mi sono trovato con questo tablet avendolo già da settembre perché abbiamo fatto un regalo a mio padre quindi ho avuto modo di testarlo approfonditamente per due mesi posso dare alcune conclusioni sulla bontà di questo dispositivo come potete vedere è un tablet 10.1 pollici ha il supporto per la memoria esterna, il supporto jack fotocamera frontale, fotocamera posteriore bilanciere del volume è posto sul lato sinistro il tasto accensione stand by è posto qui superiormente poi ci sono i vari microfoni per poter parlare e quant'altro andiamo a metterlo nel supporto così è inutile che mi lo tengo in mano allora, chiedo scusa per l'artigianalità di questa recensione però non vuole essere una recensione professionale ma soltanto un video destinato a chi vuole comprare questo device avere una idea di massima diamo alcune caratteristiche è un tablet che nasce con Android 4.4 ma come potremo vedere una volta acceso ha successivamente avuto un aggiornamento ad Android 5.02 quindi Asus l'ha subito aggiornato 16 GB di memoria integrata di cui disponibile per utente sono una decina circa appena lo accendiamo la fotocamera affrontale da 0.3 megapixel la fotocamera posteriore da 2 megapixel Wi-Fi BGN Bluetooth 4.0 e 1 GB di memoria RAM complete tutto la presenza del GPS il che non guasta mai all'interno della confezione troviamo il tablet e il tablet con il classico cavo USB che si può rimuovere come potete vedere una volta sbloccato il tablet ci troveremo davanti alla classica schermata di blocco degli Asus con i collegamenti rapidi questa interfaccia l'abbiamo già avuto modo di conoscere sui vari dispositivi con i vari smartphone realizzati da Asus andiamo a fare un rapido escursus come potete vedere questa è la home page il launcher è un launcher personalizzato da Asus lo stesso che troviamo sugli smartphone con una capacità di personalizzazione molto elevata perché possiamo modificare le pagine gli effetti di scormento bloccare le applicazioni cambiare le icone addirittura anche cambiare il font e quant'altro quindi se volete personalizzare qui potete fare in qualsiasi salsa non mancano applicazioni utili come l'applicazione Meteo potete vedere anche ben fatta e graficamente carina ricordo un po' quella del Yahoo Meteo troviamo diverse applicazioni preinstallate applicazioni per la gestione delle note applicazioni per gli appuntamenti applicazioni per gestione file ad esempio abbiamo questo gestore file che è fatto molto bene come potete vedere abbiamo già tutte quante le caratteristiche suddivise possiamo accedere subito alle immagini, ai video e quant'altro abbiamo un'applicazione che ci consente di gestire la taratura del colore attivare ad esempio in questo caso abbiamo una temperatura del colore bilanciato però possiamo modificare come più c'è grada possiamo attivare il filtro della luce blu per non stancare gli occhi durante la lettura lo troviamo sia in questa voce che nel menu a tendina che possiamo accedere qui è possibile attivare il filtro luce blu come potete vedere in maniera rapida già che ci troviamo qui vi faccio vedere anche un'altra cosa potete notare il tasto potenzia come in tutti i launcher che sono di prodotti orientali c'è la possibilità di avere applicazioni per la gestione della RAM in questo caso chi si occupa della gestione della RAM è client master che troviamo pre-installato su tablet alcuni piacerà altrimenti io l'ho trovato utile in passato più che altro per la pulizia dei file che non sono più utili tant'è ASUS lo pre-installa su questo dispositivo ed è appunto integrato nel sistema quindi è possibile gestirlo anche dai quick settings torniamo qui nelle opzioni andiamo a vedere il risparmio batteria la gestione della batteria è buona riusciamo a fare praticamente due giorni di utilizzo con 4 ore di schermo acceso con navigazione, qualche hangout qualche cosa del genere quindi la batteria è più che buona non è un campione di durata però per uso domestico va benissimo poi considerate che è un 10 pollici quindi abbiamo anche uno schermo molto ampio da gestire andiamo a vedere l'applicazione Roroggio questa è un'applicazione personalizzata da ASUS abbiamo l'applicazione carina che è quella del calendario anche in questo caso personalizzata da ASUS andiamo adesso a vedere come si comporta con la navigazione il browser di sistema è un browser davvero ottimo perché? vi spiego subito perché è ottimo perché ha una serie di chicche di funzionalità che sono utilissime per quanto riguarda appunto utilizzo come potete vedere il Corriere della Sera si è aperto subito in modalità desktop non soltanto perché come potete vedere c'era spunto richiedi sito desktop richiedi sito desktop che noi possiamo pre-attivare per tutti quanti i siti nelle impostazioni del browser andiamo soltanto a ricordarci dove andava la voce eccola qui in avanzate è possibile spuntare o meno la voce richiedi sempre sito desktop attivando questa modalità ogni qualvolta navigheremo su un sito si aprirà la versione desktop questo è utilissimo perché spesso e volentieri ci si apre la versione web mobile su determinate pagine e non dobbiamo stare lì a ricliccare i tre puntini ricarica, sito desktop e quant'altro il browser è davvero ben fatto perché ha tutte quante quelle opzioni per gestire le dimensioni dei caratteri l'attivazione del javascript la gestione della banda per il ricaricamento delle immagini i controlli rapidi che è possibile attivare la gestione del testo che potete vedere è possibile aumentare e diminuire facilmente la dimensione del testo la velocità la velocità diciamo che è accettabile non ci sono grossi problemi durante la navigazione cosa manca come al solito è il riadattamento del testo però quello che ce l'hanno soltanto di HTC andiamo a vedere il nostro sito il nostro sito preferito marcosbox che è un sito molto leggero andiamo a cliccare su ok per accettare i cookie come potete vedere appare questa linguetta di lato che serve per gestire per scrollare la pagina io la trovo stupenda dovrebbero integrarli in tutti quanti i browser per dispositivi mobile perché è davvero ben fatta davvero funzionale andiamo a vedere adesso l'applicazione galleria l'applicazione galleria non è nulla di che però i colori vengono gestiti abbastanza bene adesso non potete apprezzarlo perché naturalmente sono su una con una telecamera di fortuna quindi non potete vederli bene comunque vi dico che dal vivo il colpo d'occhio è davvero ben fatto sono un po' saturi si è super amored però si vengono davvero bene andiamo a vedere un filmato anche per sentire la parte audio apriamo con applicazione non c'è nulla da aggiungere l'audio è spettacolare l'audio estero dalle casse ed è di una qualità davvero elevata mi piace moltissimo andiamo a vedere l'applicazione fotocamera c'è il riconoscimento dei volti lo scatto è rapido diciamo c'è comunque la possibilità di accedere subito alla fotocamera posteriore in questo caso la qualità non è il massimo diciamo così perché comunque abbiamo siamo davanti a una fotocamera posteriore da 2 megapixel anteriore da 0.3 come avevo detto in apertura quindi non è questa grande qualità però comunque per le videochiamate e quant'altro è davvero davvero ben fatta funziona bene andiamo a vedere un po' nelle impostazioni di sistema giusto per dare uno sguardo all'interfaccia grafica tutto personalizzato da asus abbiamo questa questa voce che è chiamata aggiornamenti app zenui che ci consente di andare a vedere tutte quante le applicazioni della zenui installata ed è possibile gestire installare rimuovere aggiornare e quant'altro devo dire che l'aggiornamento delle applicazioni da parte di asus è continuo praticamente non passa giorno senza avere un'applicazione che si aggiorna ed è una cosa molto bella perché appunto abbiamo un aggiornamento continuo nuove funzionalità che vengono aggiunte mano a mano anche sul suggerimento da parte degli utenti qui andiamo a vedere informazioni su versioni di android ciò che ci troviamo andiamo a caricare anche dove sta eccolo qui cpio z così andiamo a vedere nello specifico quali sono le caratteristiche come potete vedere abbiamo una qualcomm snapdragon 600 quad core crate 300 con una adreno 320 andiamo qui risoluzione miga 280x800 160 dpi la densità di pixel la ram abbiamo detto che è un giga in questo momento faccio vedere abbiamo 184 libri di ram però andiamo a fare il tastino magico per potenziare ecco qui siamo arrivati a 326 megabyte questo è il livello medio di quantitativo di ram che abbiamo a disposizione per utente non molto il tutto è castrato appunto dalle varie applicazioni legate a ZenUI però nell'utilizzo come dicevo nell'utilizzo domestico quindi navigazione internet mail visione di filmati su youtube gestione chromecast quant'altro gestione multitasking normale diciamo con qualche applicazione aperta tranquillamente riusciamo a gestire certo al giorno d'oggi un giga è poco di ram di sistema però come abbiamo avuto modo di vedere viene montato un giga anche su terminali costosi qui si parla di un device che costa 130 euro quindi diciamo che il prezzo il quantitativo di ram è più che buono android 5.02 la batteria vabbè in questo momento si sta scaricando comunque come vi dicevo l'autonomia di questo device è una buona autonomia riuscirete a utilizzarlo tranquillamente tranquillamente per due giorni senza senza metterlo sotto carica andiamo musica applicazione che non vi ho fatto vedere se lo posso mettere questa canzone senza avere questo come avete potuto modo di sentire non fa che confermare la buona qualità dell'audio di questo dispositivo che delle volte è anche troppo alto il volume però è utilissimo specie se avete destino questo device a persone che non avranno problemi a sentire videochiamate musica video e quant'altro un'altra applicazione che voglio farvi vedere che è molto importante si chiama autostart manager questa è un'altra di quelle applicazioni che era su spray style su questo device questa applicazione consente di gestire e disattivare al ruolo l'avvio automatico sia delle applicazioni che noi andiamo a installare sul nostro device sia delle applicazioni preinstallate qui potete vedere abbiamo alcune applicazioni che ho installato io google rogerard e tutto il resto ecco impedisci e adesso non partirà più in avvio automatico questa applicazione viceversa se lo voglio riattivare switch consenti importante secondo me perché l'hanno messa questa applicazione come potete vedere in quelle preinstallate troviamo diversi applicativi che quasi sicuramente voi non utilizzerete crea master omelette chat trasferimento dei dati questo è un servizio di asus per la gestione dei dati per il passaggio da diversi dispositivi abbiamo l'applicazione tripadvisor che è preinstallata web storage che è un servizio di asus per lo storage di immagini file e quant'altro e zinio applicazioni come zinio omelette chat tripadvisor quasi sicuramente voi non utilizzerete trovate le applicazioni preinstallate però asus vi da questo programma e vi da la possibilità di disattivare l'avvio automatico di queste applicazioni in modo tale da risparmiare ram in avvio di sistema diciamo che si sono accorti della cazzata di aver preinstallato determinato applicazioni però appunto vi danno la possibilità di rimuovere quindi ben fatto asus sotto questo punto di vista l'ultima applicazione vi voglio far vedere quella per aggiornamento di sistema che appunto ci consente di effettuare il controllo di aggiornamento di sistema in questo momento non c'è ovviamente nulla a meno che non trovo qualche cosa questo ci sta mettendo il tempo ok niente di fatto questo bypassa l'aggiornamento di sistema quello tradizionale comunque gli aggiornamenti testati perché appunto tablet nasce con la 4.4 poi ha ricevuto diversi aggiornamenti sino alla 5.02 gli aggiornamenti di sistema ci sono sono da parte di asus sono stati fatti gli aggiornamenti vanno sempre a buon fine quindi anche per chi magari si stava chiedendo avevo alcuni amici che si lamentavano del fatto che si sono trovati male con gli aggiornamenti asus però non ho mai avuto problemi su questo tablet ne ho un altro tablet asus che ho regalato qualche tempo cioè mio fratrio ha regalato qualche tempo fa a mio nipote e anche in quel caso gli aggiornamenti sono sempre stati buoni poi come vi ho detto prima gli aggiornamenti delle applicazioni asus sono frequentissimi quindi browser la galleria la gestione il file manager tutte queste applicazioni asus che vengono pre-installate proprietari asus vengono aggiornate con una frequenza impressionante quindi un clauso va ad asus per questo tipo di gestione degli aggiornamenti e quant'altro il tablet è davvero ben fatto io lo sto utilizzando l'unica pecca che si può dare a questo tablet è che trattina un po' troppo le ditate però questo vista la fascia di prezzo visto tutto non è un problema un grave problema ci sono device ben più costosi che hanno questi problemi per quanto riguarda il trattenere le ditate che sono acquida è abbastanza specchio consiglio acquisto di questo tablet si badate bene però che quando acquistate un tablet asus dovete fare tanta attenzione a quale versione del tablet state acquistando perché asus ha questa cattiva abitudine di lanciare device con lo stesso nome però equipaggiato in maniera differente ad esempio di questa c'è la versione con il umts quindi la possibilità di navigare in mobilità che costava 180 euro quindi il device la differenza di prezzo non era tanto elevata con le stesse caratteristiche c'era anche una versione che costava 10 euro di meno che era equipaggiata con un processore intel il resto delle caratteristiche invece era simile quindi fate attenzione a quello che comprate vedete bene la confezione andate a vedere quali sono le caratteristiche del tablet asus che state per andare a comprare oltre a questo non ci sono gravi del problema ho detto il tablet gira benissimo per un utilizzo domestico è ottimo bene con questo ho concluso scusate la rozzezza di questa piccola videorecensione e il fatto che mi sono diconcato troppo perché sono quasi 20 minuti di video ma non è il mio campo ho fatto questa recensione solo per gli amici e quant'altro però la condividerò a perché farà piacere a qualcun altro lunga video e prosperità a tutti quanti ci vediamo con un prossimo video bye bye ciao